Adesso il piacere di avere ospite in studio la dottoressa Valeria Marzo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, è un piacere mio. Benvenuta Valeria. Allora, tu fai parte dell'Associazione Delfini e Neonati. Oggi sei qua perché parleremo di un evento molto importante, di una festa grandissima. Sei mamma di due bellissimi, splendidi bimbi, un maschietto e una femminuccia, gemellini, prematuri. E benvenuta intanto. Grazie, grazie mille della vostra ospitalità. Allora Valeria, il 17 novembre al Palamazzola, intanto diciamo un posto bellissimo. Al Palamazzola ci sarà una festa che voi fate tutti gli anni, giusto? Sì, allora, in questo momento noi la consideriamo la seconda edizione perché è diciamo quella più ufficiale, quella che ci ha visto coinvolgere in maniera più ufficiale anche il resto della città. Però c'è stata una prima edizione prima del Covid che poi ci ha tolto la possibilità di fare altre feste. Però è questa seconda edizione di una festa relativa alla giornata mondiale della prematurità. Perché in realtà si festeggia in tutto il mondo da diversi anni, almeno da una decina di anni. E noi approfittiamo per coinvolgere tutta la cittadinanza, per richiamare anche un po' di bimbi che sono stati inutine nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santissimo Annunziata. E festeggiamo insieme. Certo, io peraltro ringrazio i colleghi di Buongiorno Taranto che parlavano con la vostra presidente, con Beatrice. E c'è una, come dire, una importanza incredibile nella sensibilizzazione di questa... Non è proprio la festa in sé, non è celebrare la giornata, è proprio il tema. Cioè la prematurità con tanti bimbi che ci sono, che nascono prematuri, che hanno bisogno ovviamente di assistenza, di tutta una serie di cose che non neanche immaginiamo. Tu sei una mamma di bimbi prematuri, peraltro primi due figli, cioè il primo figlio a te è nato doppio. L'impatto è stato abbastanza destabilizzante. Sì, la prematurità è un discorso che, come si dice, se non lo vivi non lo conosci. Allora il nostro obiettivo è quello proprio di farlo conoscere, di far sapere a tutti quanti che in una città come Taranto esistono non soltanto le cose negative che sappiamo un po' tutti, ma purtroppo esistono anche delle situazioni che partono con un obiettivo, con un'idea fantastica, la gravidanza, la nascita di un nuovo bimbo e poi arrivano improvvisamente a devastare i sogni dei genitori. E ce ne sono tanti, ci sono tante modalità, succedono davvero tantissime cose. Quindi noi cerchiamo di far conoscere a tutti quanti questa realtà e chiediamo di aiutarci a migliorare la situazione, perché ovviamente oltre che aiutare le famiglie abbiamo bisogno di aiutare anche il personale del reparto. Tu hai conosciuto la Presidente e l'Associazione Delfini e Neonati proprio in quell'occasione lì, quando è partorita? Esatto, esatto. Avevo ancora la bimba ricoverata e l'associazione organizzò degli incontri del sabato, erano in via Pisa, c'era una scuola dove facevano questi incontri, dove aiutavano un po' i genitori a gestire alcune situazioni, le alimentazioni, lo svezzamento, eccetera. E lì ho conosciuto il direttivo di allora e mi hanno coinvolto, mi hanno subito cercata. E devo dire la verità, lì ho conosciuto poi nei giorni successivi, la prima volta che mi hanno fatto ritornare in reparto ed è stato un impatto veramente, una bella botta rientrare lì. E c'era Beatrice, che è la nostra Presidente, che ti ringrazio di averla nominata, perché voglio proprio ringraziarla perché è un esempio per tutti, è una persona fantastica, che merita di essere nel nostro Presidente perché è veramente il simbolo dei genitori, dei bimbi che sono stati in terapia intensiva nel Natale. Che bello, una persona meravigliosa Beatrice, la conosciamo un po' tutti e siamo felici di questo. E ovviamente noi quando parliamo delle associazioni che si danno da fare, partecipiamo a Taranto, parliamo veramente di tante cose. E soprattutto delle cose belle, delle cose che funzionano e sicuramente delle cose che possono funzionare meglio. Non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo. Quindi l'Associazione del Fini Neonati, ad esempio, fa anche delle cose rispetto al Natale. Poi torneremo sulla festa del 17 novembre, però per Natale voi avete anche dei gadget, delle cose, proprio per aiutarvi un po'. Ci siamo un po' reinventate nel Natale solidale, quello che tante associazioni fanno, veramente facciamo anche bomboniere, facciamo un po' di tutto proprio per cercare di farci conoscere, ma anche di raccogliere un po' di beneficenza. E anche quest'anno abbiamo questo Natale solidale, sono il classico panettone, pandoro, artigianale, dell'oggettistica. C'è anche un'artigiana della città che ci aiuta, le candele, le natività sono fatte a mano, e ci aiutano tanto, devo dire la verità. Quindi magari se c'è uno che vuole fare un pensierino, un regalino, qualcosa si può rivolgere a voi e fare anche bene efficienza. Ci sono i nostri numeri, quindi potete scriverci tranquillamente, anche se noi facciamo tutt'altro nella vita, facciamo anche questo. Guarda, le persone che si occupano delle associazioni così importanti come la vostra, che per fortuna e anche per il vostro lavoro, non è solo una questione di fortuna, sta crescendo, sta diventando sempre più importante, queste associazioni sono fatte di persone che donano il proprio tempo, cioè la propria presenza, il proprio lavoro, mettono a disposizione tutte le competenze che hanno, e certe volte anche quelle che non hanno, pur di arrivare ad aiutare gli altri, perché poi alla fine, quando si sta e si entra in un reparto che è così importante, in questo piccolo spazio delicato in cui tutto sembra essere avvolto in una nuvola, bisogna anche entrare, come dire, in un momento delicato della fase postpartum, che è proprio quella in cui la mamma ha bisogno tantissimo, il bambino ha bisogno della mamma, ma anche la mamma ha bisogno di aiuto, quindi adesso, ecco, come dire, la cosa particolare di questa associazione è proprio questo, cioè di entrare in un momento della vita delicatissimo in punta di piedi. Sì, assolutamente, quindi sfruttiamo un po' le nostre esperienze in realtà, noi abbiamo fatto anche un corso di formazione con la psicologa dell'associazione, che ci ha aiutato a capire come bussare a queste porte senza spalancarla alla porta. Anche perché, come dicevamo prima, la gravidanza, il sogno, le cose, si pensa sempre di arrivare poi, quando si partorisce, ad una situazione, diciamo, di normalità, invece quando sei lì ti rendi conto che in quel centro lì il bambino deve essere messo nella, adesso parlo, non so, dell'incubatrice. Incubatrice, sì, sì, c'è una parte dove c'è la terapia intensiva, quella profonda, e poi ci sono le altre stanze con... E quindi magari quando realizzi che non proprio tutto sta andando come doveva andare, è chiaro che è una mamma che è già normalmente predisposta alla stanchezza fisica, tutti i nove mesi che ha le spalle, più il parto, che è una cosa, diciamolo, insomma, è una cosa... tu che ne hai, insomma, avuti due, è ancora, insomma, più difficile. Però ecco, questi sono momenti che poi sono momenti indelebili, indimenticabili, e che senza dubbio poi segnano anche il rapporto tra i genitori e i figli. Sì, tantissimo, la particolarità è che tu te ne accorgi, ma in realtà il mondo intorno a te non se ne accorge. i parenti vogliono le foto, vogliono sapere qualcosa, e tu stai vivendo l'ansia, la paura, a volte la tristezza, e quindi per questo è giusto informare, perché purtroppo non per tutti la gravidanza poi finisce con un momento di felicità, e quindi ci vuole il supporto anche delle famiglie, di chi sta intorno. Ed è per questo che il 17 novembre a Palamazzola, dalle 17.30 fino alle 20.30, ci sarà una festa, ed è tutto gratuito, l'ingresso è gratuito, ci saranno degli spettacoli, intanto ci sarà Francesco Greco, che è un violinista speciale del nostro territorio, bravissimo, che salutiamo. Poi ci sarà l'animazione di Wonderland Taranto, e poi ancora ci sarà l'esibizione della scuola di danza Performance, quindi tanti spettacoli, una festa incredibile, e appunto in occasione della giornata mondiale della prematurità 2024, ma come insistiamo, come continuiamo a dire, è sempre il giorno giusto per fare sensibilizzazione. Quindi ti ringrazio, Valeria, per essere stata mia ospite. A presto, tanti saluti a voi, a tutti quanti volontari di Associazione Delfini e Neonati, e noi ci rivediamo presto, e ci vediamo il 17, grazie ancora.